Un'intera mattinata rivolta alle visite guidate dal Giardino Parolini di Bassano, un successo la giornata FAI che la locale sezione ha voluto dedicare allo storico polmone verde della città dove sono custoditi esemplari di piante provenienti da tutto il mondo. Il Giardino, riconosciuto nel 1909 Monumento Nazionale, è una delle strutture più apprezzate del Veneto. La dimostrazione è queste visite guidate da due studiosi d'eccellenza, Giuseppe Busnardo e Alcide Bertazzo, profondi conoscitori degli esemplari custoditi in questo scrigno voluto dall'illustre botanico bassanese Alberto Parolini. Per tutti è stata un'occasione di ripartenza, di ripresa dopo lo stop causa Covid, rispettate tutte le misure di sicurezza assicurate dalla presenza della protezione civile come si vede dalle immagini, per tutti la riscoperta delle nostre bellezze perdendosi in un mondo o altro a due passi dalla frenesia del quotidiano.